Musica Martedì 21 novembre, buongiorno, sono le 7 del mattino, benvenuti all'edicola. C'è una specie di, diciamo così, di controcanto questa mattina sui quotidiani rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Se ieri vi segnalavo quella che sembrava essere un inizio di presa di coscienza da parte, diciamo così, del mondo maschile, di un problema serissimo come quello appunto della violenza di genere, oggi c'è inevitabile in qualche modo la reazione che si colora ovviamente anche di una nota politica. Fa seguito alle parole della sorella di Giulia Cecchettine, che abbiamo letto ieri dal Corriere della Sera, ma anche da una serie di interviste che appunto questa ragazza ha rilasciato. Oggi ne troveremo fra l'altro un'altra su Repubblica. E allora vi voglio far vedere subito, ecco qua, per esempio, la prima pagina di Libero così titola caccia al maschio, come se per l'appunto fossero sotto accusa il genere maschile in generale. E parla apertamente Libero di delirio femminista e stigmatizza appunto questo corteo, che è stato indetto per sabato prossimo, dice Libero contro il governo e gli uomini, però sostengono Gaza dove le donne non hanno alcun diritto. E qui c'è per l'appunto questo effettivo circuito rosa, così lo definisce Pietro Senaldi, tra rapper violenti e Hamas. E vengono riportate alcune frasi, alcune parole di queste canzoni che effettivamente, diciamo così, nulla hanno di conciliante con i temi femministi. Dall'altro canto, anche il direttore di Libero, Mario Secchi, parla di quello che definisce il racconto fantasy di Mauro e Manconi e sembra appunto iniziare con quello che definisce il surreale dibattito dove si passa dall'assassinio di Giulia Cecchettin alla mostra di Tolkien, però dice che il bersaglio da colpire è predestinato, il governo Meloni colpevole di tutto. Insomma, alla fine questo sarebbe, secondo questo quotidiano, l'obiettivo. In realtà non è esattamente così, tant'è che io mi sono andata per scrupolo, diciamo, a riguardare le parole esatte della sorella Giulia Cecchettin perché, per esempio, si parla di questo attacco al governo. In realtà Elena Cecchettin parla del femminicidio come di un omicidio di Stato, dice perché lo Stato non ci tutela, perché non ci protegge e quando lo scriveva sicuramente Cecchettin non si riferiva certo solo a quest'ultimo governo, sarebbe, voglio dire, non avrebbe alcun senso, nessuna donna lo pensa davvero, anche perché c'è da troppo poco tempo e invece i femminicidi, come sapete, purtroppo sono un retaggio antico. Andiamo avanti però, diciamo, su questo filone inaugurato da Libero. Anche la verità non poteva farselo sfuggire e infatti, eccolo qua, usano perfino un omicidio per rieducare, fra virgolette, il maschio. Qui c'è proprio invece la revanche, diciamo così, dell'uomo ferito. Se il delitto è frutto del patriarcato, scrive infatti il quotidiano diretto da Belpietro, se siamo tutti colpevoli, vuol dire che non c'è nessun colpevole. Invece l'assassino esiste, ma molti politici strumentalizzano la tragedia per infilare ancora un po' di ideologia a scuola ed è questo che, come dire, spaventa molto Belpietro che per l'appunto poi stigmatizza anche gli stessi rappresentanti della destra che ieri avevano usato farsi carico, diciamo così, del problema e infatti lo scrive a pagina 2 Giorgio Gandola la sinistra lancia la caccia all'uomo e qualcuno a destra si fa travolgere e proprio, insomma, progressisti scatenati dopo il delitto Cecchettin Valditare e Tajana cadono nel tranello, così viene definito. Il primo manda una circolare in cui parla di cultura del dominio il secondo si scusa senza aver fatto nulla di male e poi appunto si insiste ancora con questo tema che chi dice che è colpa di tutti assolve Filippo. Allora, la questione è che in realtà nessuno di quelli che stanno ragionando sul cosiddetto patriarcato sostiene che sia colpa di tutti perché c'è una differenza e la spiega benissimo sulla prima pagina della stampa Mattia Feltri fra quella che è la colpa individuale e la responsabilità collettiva e allora io ve lo leggerei questo buongiorno questa mattina scrive Mattia Feltri ho letto e sentito molti scrittori e commentatori o miei evoluti amici, spesso di destra ma non sempre ribellarsi all'idea di portare una quota di colpa per essere maschi nell'assassinio di Giulia Cecchettin né dunque di portarne per qualsiasi altro femminicidio io, dicono, nulla centro con un criminale farabutto non ho mai mollato un cefone a una donna mai le ho detto di stare zitta credo nella parità e la pratico ogni santo giorno e poi, aggiunge qualcuno estendere la responsabilità a tutti i maschi rischia di relativizzare quella dell'assassino proprio appunto come diceva Belpietro non è un dibattito banale ci avverte Mattia Feltri e viene da lontano penso di non sbagliare se attribuisco l'origine del concetto di responsabilità collettiva a Anna Arendt naturalmente lei si riferiva alla Shoah ma l'ha formulato in modo che fosse applicabile in altri casi e altri tempi c'è profonda differenza infatti fra la colpa individuale e la responsabilità collettiva la colpa è per forza individuale e individuali le conseguenze soprattutto penali ma la responsabilità collettiva è politica e ognuno deve assumersela anche per quello che non ha fatto per la semplice ragione di appartenere a un gruppo o a una società e cioè e la rilettura è la mia dice Feltri sono sicuro di essere irreprensibile non ho mai discriminato una donna non ho mai pronunciato battute da caserma ho ridacchiato a battute altrui non ho mai formulato commenti sessisti e se a tutte queste domande la risposta è mai quanto ho fatto perché gli altri la piantassero perché le cose andassero meglio questa è la responsabilità collettiva e se non c'è non c'è collettività o se preferite nazione è interessante no? come impostazione quella della stampa vi voglio segnalare anche quella di Luca Ricolfi sul messaggero perché Ricolfi? diciamo così la prende un po' più laterale e prova a fare un ragionamento che inizia dalla prima pagina del messaggero le difficoltà del maschio ad accettare una sconfitta e ripeto parte la prende un po' più dalla larga perché si chiede come mai in paesi diciamo così più evoluti o che noi consideriamo più evoluti ci siano più femminicidi stante il fatto che noi non conosciamo esattamente né le proporzioni né le percentuali e quindi bisognerebbe stare molto attenti con questi numeri ma comunque prendiamo per buono davvero il fatto come dicono per l'appunto le cronache che ci siano più femminicidi per quale motivo? lui dice se fosse la cultura del patriarcato non reggerebbe perché nessuno può sostenere che il patriarcato sia più sviluppato per esempio in Svezia dove ci sono più omicidi rispetto all'Italia e allora lui dice se uno vuole per forza affezionarsi a una teoria per salvarla può anche dire c'è che in un paese così gli uomini uccidono di più perché non erano pronti ad accettare tanta libertà per le donne di qui una sorta di contraccolpo ma in realtà lui è convinto invece che esista una spiegazione più semplice per quanto dice più difficile da accettare cioè che una delle radici della violenza sulle donne nelle realtà più avanzate potrebbe essere proprio il loro essere avanzate insomma queste signore si sono permesse di essere troppo avanzate facendo quello che Filippo Turetta chiedeva a Giulia cioè rallenta non ti laureare non mi lasciare indietro a proposito di Giulia voglio chiudere facendovi vedere queste due pagine del Corriere della Sera pagina 2 e pagina 3 che ci riassumono diciamo così i dati di cronaca ultimi la prima coltellata a pochi metri da casa scrivono sia Repubblica che il Corriere perché pare insomma che già lì fosse avvenuta l'aggressione e poi tutti i nodi legati alla cosiddetta premeditazione i 300 euro che aveva Filippo i sacchi neri che si era caricato in macchina lo scotch e questo coltello per l'estradizione ci dicono i quotidiani bisognerà aspettare una decina di giorni nel frattempo non si può neanche fare l'autopsia per tutta una serie di questioni legali sempre sul Corriere della Sera ci sono altre due cose che vi voglio segnalare questo bellissimo articolo di Marco Imarisio che mette a confronto il destino parallelo dei due padri il padre di Giulia e il padre di Filippo che si sarebbero forse potuti incontrare alla manifestazione che si è svolta l'altro giorno nel paese di Giulia per fortuna scrive Imariso non è avvenuto a favore di telecamere avverrà quando potrà avvenire e ancora più interessante Giuseppe Fasano che riprende quello che è diciamo così il decalogo di dire che sono i centri antiviolenza e segnala i famosi campanelli di allarme quelli che devono portarci a capire che non è amore ma è appunto violenza vi dicevo c'è un'intervista oggi allunghiamo di un paio di minuti prima di andare in pubblicità un'intervista su Repubblica oggi alla sorella appunto di Giulia che dice gli assassini appunto dentro casa lo stato è complice non starò più a guardare e spiega bene il suo il suo pensiero perché appunto le chiedono lei ha detto Filippo non è un mostro e lei dice quando avviene un femminicidio scatta sempre un fenomeno da una parte si sminuisce parlando del bravo ragazzo cercando di dare la colpa alla donna oppure avviene l'opposto il colpevole è un mostro un malato una bestia ma così nessuno si prende la responsabilità la responsabilità di dire cosa le chiede Rosario di Raimondo nessuno nasce mostro nella crescita di una persona conta l'educazione familiare scolastica quella data dalla società ci sono comportamenti malsani che vengono sdoganati si giustifica la gelosia il controllo del telefono si dice è un po' possessivo invece questi comportamenti possono costituire un escalation che porta poi a botte stupri e femminicidi la punta della piramide della cultura dello stupro e quindi anche lei appunto chiede una presa di coscienza della società e poi dice probabilmente insomma mi impegnerò a livello politico impegno che per molte donne significherà anche partecipare alla manifestazione che era già stata prevista per il prossimo 25 di novembre perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ma che ovviamente ha diciamo così una caratteristica e una coloritura ancora più drammatica questo sabato ecco qua il titolo del manifesto Fuoco cammina con me non so se qualcuno ricorda Twin Peaks questo era appunto uno dei climb di quella serie e è l'annuncio appunto di questa manifestazione ora sono le 7.13 abbiamo chiuso questo capitolo ci fermiamo andiamo in pubblicità e poi andiamo a vedere tutte le altre notizie che sono sui quotidiani 7.18 riprendiamo a sfogliare i giornali della nostra edicola avevo detto che avevamo chiuso il capitolo Giulia in realtà c'è una chicchetta che non posso non segnalarvi che prendo dal domani che ci segnala come l'esperto scelto dal ministro dell'istruzione valditara a guidare appunto il gruppo che si occuperà delle violenze di genere in realtà secondo il giudizio del domani non sarebbe proprio adattissimo tant'è che scriveva qualche tempo fa in un libro le donne cattive come il diavolo di chi stiamo parlando lo scopriamo a pagina 2 Alessandro Amadori è il coordinatore del gruppo di psicologi e giuristi del ministro sulla violenza di genere questo signor Amadori chiamato appunto dal governo a coordinare questo gruppo è docente a contratto di psicologia alla cattolica di Milano e nel 2022 aveva pubblicato un libro che si intitolava è l'Italia che vogliamo il manifesto della Lega per governare il paese con una prefazione di Salvini ma scrive ancora Cristian Raimo Amadori non è un esperto di violenza di genere ma per capire come la pensa possiamo leggere un libro che invece ha pubblicato nel 2020 insieme a Cinzia Corvaglia una sua studentessa rimasta nell'anonimato dopo questa pubblicazione il libro si intitolava La guerra dei sessi piccolo saggio sulla cattiveria di genere il libro è edito da BookSpring un'edizione autopubblicata come appunto feceva Naci con il mondo al contrario e condivide lo stile dice vagamente cospirazionista e l'insofferenza per il politicamente corretto il politicamente corretto secondo Amadori cioè secondo questo esperto del ministro Valditara è quello che ci fa considerare solo la violenza maschile e non quella femminile Amadori derubrica la violenza di genere all'espressione della cattiveria rimandando di fatto la questione all'individualità e non considerandone il carattere sistemico le donne dice sanno essere più cattive di quanto pensiamo e vabbè sì siamo cattive vabbè invece vi dicevo andiamo a Miley che non so se sia cattivo però lo chiamano il loco il pazzo e per le manifestazioni diciamo così che ha mostrato effettivamente qualche diciamo dubbio lo può lasciare il manifesto è molto molto preoccupato dalla diciamo così vittoria del nuovo presidente argentino e forse il giornale che più ne scrive e ci riflette Miley un presidente con la motosega infatti troviamo sulla prima pagina del manifesto che scrive la rabbia nei confronti della casta politica è stata più forte della paura verso la destra estrema e l'anarchia del mercato che si prospetta per la nuova argentina Javier Miley vince con un distacco sbalorditivo persino per i poi sostenitori la sfida presidenziale contro il ministro dell'economia Sergio Massa peronista tradito anche dalla siccità che ha acutizzato la profonda crisi del paese questa la situazione poi si parla addirittura di un'ombra nera che si allunga sul subcontinente e della chimera del fascismo liberale sul Corriere della Sera è Aldo Cazzullo che si preoccupa come dire di farci capire perché ci deve interessare tanto questa elezione non solo dice perché ovviamente non c'è praticamente argentino che non abbia un nonno se non che sia lui direttamente italiano o discendente di italiani ma perché diciamo così c'è una configurazione che va disegnandosi non solo in quell'emisfero abbastanza inquietante e che alla fine dice Cazzullo si concluderà quando fra meno di un anno negli Stati Uniti si voterà il nuovo presidente e dice l'onda populista sospinge l'incredibile ritorno di Donald Trump cui all'evidenza il suo elettorato ha perdonato ogni cosa anche di aver aizzato la folla che ha invaso il Parlamento poi dice ognuno è libero di pensarla come vuole che con Trump di ritorno alla Casa Bianca ricco e spietato come il Conte di Monte Cristo possa scoppiare la terza guerra mondiale o che al contrario Putin e Hamas deporranno le armi sarebbe curioso però si chiede Cazzullo capire anche se Giorgia Meloni auspica il ritorno di Trump e in genere avverte il richiamo della foresta populista e antisistema o se si sente ormai la leader dei moderati italiani di sicuro la storia che sembrava placata e addomesticata dai Macron dagli Scholz dai Biden e dalle von der Leyen insomma dai centristi torna a farsi più bizzarra incerta che mai per questo non chiediamoci per chi risuona la motosega di Milei essa risuona per noi e con questo richiamo è mingueiano noi lasciamo diciamo così per un momento le questioni legate a Milei e ve lo anzi prima di lasciarle vi voglio far vedere Libero che invece è molto molto contento della vittoria di Milei ma soprattutto è contento del fatto che a sinistra non piaccia e così sulla prima pagina ecco Daniele Capezzone scrivere il diario della motosega Milei vince e fa impazzire la sinistra e poi se andiamo a pagina 7 ecco qua il racconto appunto di questo anarcho liberale che vuole l'Argentina rifatta da capo a piedi vengono molto smussati diciamo così certi angoli di Milei un po' anarchico ma pure un po' sovranista così lo definisce Libero piace a Trump Vox e Bolsonaro allora vi dicevo lasciamo questo aspetto e andiamoci invece a vedere che cosa sta succedendo sul fronte della guerra in Israele allora purtroppo si continua a parlare ormai da giorni del possibile rilascio di ostaggi ma ancora non ci sono almeno fino a questo momento novità in tal senso forse il telegiornale ci potrà dare qualche anticipazione e così scrive Davide Frattini sul Corriere della Sera ci racconta prima delle discussioni che sono avvenute in questi giorni al Parlamento in Israele e poi racconta ancora del fatto che per l'appunto ci sono c'è Joe Biden che dice di essere convinto che un'intesa sugli ostaggi sarà raggiunta presto però i cinque giorni di tregua chiesti dagli jihadisti sarebbero troppi per gli israeliani e dunque insomma c'è una sorta di impasse impasse che invece non c'è stata per fortuna alla fine per questi 28 bimbi prematuri che sono stati portati via da Gaza e vi voglio segnalare davvero questa pagina perché questa fotografia mi ha molto colpito vorrei che la regia riuscisse ecco ve la metto proprio a favore di camera fa una certa impressione questi sono tutti i medici egiziani pronti con le rolo incubatrici per ospitare questi bimbi questi 28 piccini e sono al valico di Raffa è insomma una dimostrazione davvero di grande efficienza e anche visivamente questa foto è importante dopodiché invece purtroppo c'è da segnalare ci sono da segnalare altri problemi chi ha seguito il nostro telegiornale ieri sera forse avrà visto che vi abbiamo mostrato un sondaggio inquietante in cui agli italiani veniva chiesto se aveva l'idea di quanti fossero gli ebrei in Italia e pochissimi avevano contezza davvero ma soprattutto si è cercato di capire anche diciamo così la l'affinità e la solidarietà nei confronti degli ebrei ed è risultata molto bassa soprattutto fra i giovani e allora oggi vi segnalo sulla stampa questo racconto fatto da Luca Monticelli la paura di essere ebrea è andata a intervistare questa ragazza una studentessa si chiama Adaria Nos che non si sente più sicura a Roma dice il clima è cambiato molti di noi hanno timore di andare in facoltà e ci hanno consigliato di non farci riconoscere passiamo invece alla politica passiamoci rapidamente visto che sono sulla stampa ci resto perché a pagina 13 si affronta il tema prossimo delle regionali e nel suo articolo Federico Capurso ci parla di una destra che si spacca proprio sulle regionali con Salvini che minaccia la corsa in solitaria il centrodestra scrive Capurso nei territori sta andando in frantumi non appena il partito di Giorgia Meloni ha iniziato a reclamare più spazio perché ha pochi governatori rispetto ai voti che porta in dote alla coalizione Lega e Forza Italia hanno risposto rompendo gli accordi e scavando trincee intorno ai loro presidenti di regione questo starebbe succedendo ma è speculare a quello che succede a sinistra almeno a stare a quello che ci racconta Claudia Fusani sul riformista regionali comunali ed europee la sinistra rischia di frantumarsi questo è il titolo ma a leggere il suo articolo direi che sia già ampiamente frantumata scrive infatti Fusani un Armageddon che rischia di mandare in frantumi alleanze coalizioni e belle speranze se nel centro-destra si litiga nel centro-sinistra va tutto in scena sulla pubblica piazza dei social della tv e della stampa locale e anche lei per l'appunto parla della situazione delle comunali ma anche in particolare di quello che potrebbe succedere in Sardegna dove è stato deciso che la candidata sarà Alessandra Todd che viene dal Movimento 5 Stelle ma si mette in mezzo Renato Soru che era stato a sua volta presidente di regione e non ci sta poi ci sono abbiamo un minuto per farvi vedere ancora un po' di notizie economiche importanti le prendo dal sole 24 ore allora prima notizia con cui si apre questo giornale effetto Moody's sullo spread giù a 173 e la borsa va bene anche con lo stacco delle cedole ma l'altra notizia interessante è quella che riguarda Monte dei Paschi di Siena lo Stato avvia l'uscita sul mercato il 20% di capitale per chi ricorda le traversie della banca più antica del mondo è certamente una notizia importante chiudo a proposito di notizie importanti con quello che sta succedendo a AI all'intelligenza artificiale con quello che era appunto l'inventore diciamo uno dei fondatori di OpenAI che è passato a Microsoft e dunque una guerra economica che si apre in tutti i sensi Ninfa buongiorno che novità ci sono io annunciavo già novità soprattutto sul fronte della guerra prima si Flavia buongiorno ci sono molte novità sul fronte della guerra perché proprio pochi minuti fa le agenzie di stampa hanno battuto la notizia che Hamas darebbe per imminente un accordo con Israele per il rilascio degli ostaggi che sono appunto in mano ad Hamas dal 7 ottobre scorso i dettagli verranno consegnati al Qatar che come lo sappiamo sta mediando da settimane tra Israele e appunto i gruppi armati palestinesi per ottenere il rilascio degli ostaggi in cambio Israele dovrebbe garantire un cessato il fuoco di almeno cinque giorni oltre al rilascio di alcuni detenuti palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane però ci sono anche novità per l'omicidio di Giulia Cecchettin perché stanno uscendo questa mattina i dettagli dell'ordinanza del GIP su Filippo per Filippo Turrete il quale ce l'ha fatto vedere Flavia ampiamente nei giornali verrà estradato nei prossimi giorni bene ci sono alcuni nuovi elementi a partire dal fatto che Giulia sarebbe stata accoltellata a 150 metri da casa quello è stato individuato il luogo in cui lui l'avrebbe accoltellata per la prima volta e poi soprattutto il GIP dice che Filippo potrebbe agire di nuovo è violento e quindi potrebbe colpire di nuovo e questi sono appunto alcuni elementi che stanno emergendo in queste ore riguardo l'omicidio di Giulia che sta mobilitando come sappiamo le piazze di tutta Italia qui di questo parleremo qui nel nostro telegiornale tra poco ma prima io do la linea Paolo sotto corona per tutti i dettagli del meteo di oggi a te Paolo noi ci vediamo tra pochissimo grazie Ninfa buongiorno questa è la situazione di questa mattina molte nuvole fra nord e centro soprattutto come si vede le perturbazioni sull'Atlantico sono rimaste lì quindi non viene da lì il peggioramento non so se sia meglio o peggio sicuramente farà più freddo in prospettiva ci sono delle piogge sulle zone del nord ma sono più intense al momento al di là dell'Adriatico quindi Slovenia Croazia Istria vediamo la previsione per la giornata di oggi c'è questo schema vedete i fenomeni molto intensi sulla penisola balcanica che arrivano attraversano facilmente l'Adriatico e arrivano a prendere l'Emilia Romagna le Marche l'Umbria in prima battuta con fenomeni anche molto intensi molto abbondanti più moderati i fenomeni che si associano al resto della nuvolosità quella che prende il centro che si affaccia anche al sud sul versante tirrenico da notare anche sull'Alto Tirreno in prossimità dell'Arcipelago Toscano sul mare anche gli fenomeni intensi questa situazione diciamo è quella che apre un po' la porta ai prossimi giorni con un tempo che sarà decisamente diverso da quello che abbiamo trascorso nelle ultime settimane vediamo però la giornata di domani c'è un'attenuazione di questi fenomeni almeno sull'Emilia non sulla Romagna sulle Marche dove ancora i fenomeni intensi ci sono e poi si estendono vedete che raggiungono in parte la Sardegna anzi addirittura forse la superano la Corsica e poi le zone del sud peninsulare compresa la Sicilia insomma il maltempo scende un po' verso sud si estende molto anche se qui è la perde di intensità arriviamo alla giornata di giovedì in cui c'è questo miglioramento che prende parte del centro ha ancora fenomeni intensi su tutto il sud forse il basso versante tirrenico un po' meno però i fenomeni ci sono ancora e soprattutto questo apre un po' la porta a un tempo come dicevo diverso i due flash finali molto velocemente ancora non molto scese ma scenderanno le temperature minime che restano basse al nord come nei giorni scorsi ma ancora diciamo relativamente alte al centro sud lo stato dei mari comincia a dichiarare questo movimento soprattutto questo maestrale al momento che rende agitato il mare di Corsica e Sardegna ma gli altri fra mossi e molto mossi lo saranno tutti e i prossimi giorni sicuramente rinforzerà sia il vento che il moto ondoso se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con l'Infacola Santa a più tardi grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.